In vista delle imminenti festività natalizie una misura a favore delle categorie meno abbienti. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 8 del prossimo 29 novembre sino alle ore 13 del 9 dicembre. Esclusivamente online sul sito del Comune di Pescara www.comune.pescara.it cliccando sull'apposito link dedicato ai buoni spesa. L'assessore alle politiche sociali Adelchi Sulpizio. 400 mila euro di risorse destinati, i 400 mila euro naturalmente a chi? Diamo a tutti i cittadini di Pescara, i nostri concittadini che hanno sofferto più di altri nel periodo del lockdown, quindi riferiamo ai periodi che sono sia di marzo che di aprile 2021 che ci ricorderemo tutti quanti era un periodo di lockdown. Il vantaggio è che abbiamo utilizzato una piattaforma completamente online, quindi una piattaforma completamente online che consentirà ai cittadini da casa, quindi senza venire in comune, di poter riempire questi moduli. I beneficiari naturalmente dipendono anche dal reddito e da tante altre cose, quali sono le condizioni? Le condizioni sono di aver, nel bando sono fissate, quindi devono avere un insieme sotto gli 8 mila euro, devono avere in questo contesto e soprattutto devono aver avuto dei momenti di difficoltà, soprattutto strettamente connessi a quei due periodi, quindi periodi di marzo-aprile 2021, quindi quello è il periodo del lockdown. Il modo anche di utilizzo del buono sarà semplicissimo, nel senso che noi andremo a riempire la tessera sanitaria, quindi all'interno della tessera sanitaria potranno andare direttamente a tutti i supermercati convenzionati, potranno, previo dimostrazione del PIN che gli arriverà tramite sms, potranno spendere queste somme. Gli importi, Assessore? Gli importi vanno da 150 euro fino a 550 euro, quindi da secondo del nucleo familiare, a seconda delle condizioni. Ricordiamo che potrà anche essere ulteriormente aumentato di ulteriori 100 euro per ogni nucleo familiare qualora ci sono dei bambini sotto a due anni.